Stiamo raccogliendo i risultati delle elezioni regionali. Abbiamo qui con noi la presidente della Fondazione Torino Musei, Patrizia Sproni. Con lei parliamo del futuro, parliamo in particolare del futuro della cultura in Piemonte. Signora Sproni, spesso si dice che con la cultura non si mangia. Invece noi vediamo un grande aumento del flusso di turisti in Piemonte. Forse con la cultura si mangerà in Piemonte da qui in avanti? Assolutamente sì. Nei giorni scorsi c'è stato un importante provvedimento da parte del Ministro Franceschini, un nuovo decreto legge, che va proprio in questa direzione, cioè nel riconoscimento della cultura come leva di sviluppo per il Paese e naturalmente per il territorio. Il Piemonte è sempre stato leader, soprattutto negli ultimi anni, in questa direzione, quindi sono assolutamente certa che i prossimi cinque anni vedranno una grande attenzione su questo settore. La cultura in Piemonte è diventata traino per il territorio, leva di sviluppo, una cultura che peraltro è una cultura di filiera, perché lei dice che con la cultura si dovrà mangiare, ma già si mangia, l'enogastronomia è uno dei punti più importanti del Paese, che collegato ai beni culturali, quindi a quel patrimonio che insiste nel territorio, diventerà estremamente importante, soprattutto per i flussi turistici futuri. Già i cittadini piemontesi sono estremamente consapevoli di queste loro ricchezze e questa consapevolezza li porterà alla tutela, certamente del patrimonio, ma soprattutto alla valorizzazione dello stesso. Ecco, nei prossimi anni, ma soprattutto il prossimo anno, il 2015, l'anno della cultura e l'anno dell'Expo. L'Expo sarà a Milano, ma avrà grandi ricadute anche in Piemonte. Che cosa succederà in Piemonte? Ci sarà un grande flusso di turisti? Diciamo che quest'area vasta che si sta sviluppando appunto intorno all'Expo vede il Piemonte in prima fila, quindi il Piemonte sarà uno dei luoghi di ricaduta di questi 20-22 milioni di visitatori che verranno a visitare l'Expo. Devo dire che anche la programmazione culturale del Piemonte è all'avanguardia rispetto a molte altre regioni italiane e quindi sono sicura che il Piemonte sarà uno dei luoghi di attrazione per questo nuovo turismo che arriverà soprattutto dai paesi più lontani come la Cina o come il Sud America o come l'Asia, che stanno diventando poi fondamentali appunto come portatori di economia. Ecco, perché forse spesso più che i tour operator vale il passaparola, quindi spesso i turisti tornano qui, tornano a Torino, tornano in Piemonte perché qualcuno ha parlato bene di noi. Quindi anche il fatto di essere capaci di accogliere bene il turista può avere una grande importanza, quindi la formazione anche di tutti gli operatori. Ecco, questo è un argomento molto importante. La formazione degli operatori significa anche occupazione qualificata e quindi anche su questo sarà estremamente importante quello che succederà prossimamente. Ma io sono estremamente fiduciosa, io direi che la regione Piemonte è pronta.